Ci sono. Siamo qui nello studio del dottor Canonaco di Bologna dove io ho concluso una terapia veramente importante che mi ha dato dei risultati strabilianti. In realtà sono arrivata qui circa quattro mesi fa con una diagnosi di artrosi a entrambi gli alluci dei piedi e mi avevano segnalato che l'unica alternativa sarebbe stato un intervento bilaterale con l'inserzione di una protesi nell'alluce. Ovviamente questo mi aveva gettato in una sorta di importante preoccupazione e quindi cercando e verificando e avendo già referenze su questo centro sono venuta qui e ho accettato di fare questa terapia che è una terapia impegnativa, importante ma che mi ha dato dei risultati strabilianti. Ora a distanza di quattro mesi posso dire che ho migliorato tantissimo al punto da non avere più bisogno dell'intervento e da poter godere di nuovo di un movimento che prima era quasi impossibile. Ero arrivata al punto in cui persino il contatto della calza mi dava fastidio rispetto al dito del piede. Ora con un plantare e con tutti i trattamenti fatti posso finalmente ricominciare a camminare riassaporando il gusto che avevo perduto da tempo. Grazie, un grazie sincero a tutte le persone straordinarie che lavorano in questo centro.